O cari amici, vi sopplico, non mi riesci di risolvere la gran questione, l'antena questione, che angustia è come le padrone di casa, e io sono terremamente triste e ammasciata di non saper risolvere la gran questione, l'antica questione, che angustia le padrone, e io sono terremamente... Quale questione? Quale questione? La gran questione, l'antica questione, l'antica questione, l'antica unione, l'antica unione.